Quanti smartphone! Ma è potente potente? Wow, mi hai già trasferito tutti i contatti! Ah, ho capito! Posso provarlo? Ma li avete proprio tutti! Vabbè, 5 pollici! Ciao! Ciao! Vi vogliamo felici come bambini! Tutti i migliori smartphone, la migliore assistenza d'Italia e la rete 4G più grande d'Europa! Benvenuti lei nei negozi Vodafone! Scusi! 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 Vado sull'isola, prendi!